Ciao ragazzi, questo è un nuovo trucco sui toni del bianco, azzurro e marrone che mi è stato richiesto e niente, lo trovo un trucco adatto benissimo di giorno ma anche in attira perché è molto molto carino e a me piacciono molto anche questi tre colori insieme e spero che appunto piaccia alla ragazza che mi ha richiesto ma anche a voi. Dopo aver applicato un primer prendo dalla mia palette 88 shimmer il bianco, è l'unico bianco che c'è, quello in alto a sinistra e con un pennellino fino di questo tipo lo applico all'inizio della palpebra mobile. Qua, vado anche un po' qui. Così, ora sempre della mia palette 88 faccio messo di questi due colori, sono due azzurri e lo applico subito dopo il bianco. volendo ne aggiungiamo un po' di più per aumentare l'intensità dell'azzurro, volendo potete anche lasciarlo più chiaro. Sta a voi, ecco, decidere come lo preferite. Prendo ora un marrone matto, utilizzerò questo che è un ombretto della Prestige, quello metà bronzo e metà marrone. Comunque qualsiasi ombretto marrone, scuro, matto va bene. Lo applico nell'ultima parte. Adesso prendo una matita bianca, la mia è della Sephora, della linea con l'expert, numero 2, Blanc Pro. Scrive tantissimo, lo andiamo a mettere dentro la rima. Ne metto anche un po' leggermente qui sopra l'ombretto bianco che abbiamo messo all'inizio. dalla mia palettina della F, questa qui, che è la Easy Hazel, prendo questo color vaniglia e lo metto sotto, se metto a fuoco, lo metto sotto l'arcata sopraccigliare. Applico il mascara, il Ciglia Fint di Maybelline New York. Anche qua. Come blush applico quello dell'ultima linea di Kiko e applico questo colore qui, il Bright Peach numero 5, con il pennello Powder Brush di Elf. Prendo il prodotto, lo metto e sfumo. Prendo il prodotto, lo metto e sfumo. Prendo il prodotto è un posto in Q. E' il prodotto Сегодня chiude alla externally che volo, abbiamo parlato di una Tar parse a un Ulisses Auto. Prende il bidetto che si chiude, e queste sono mesi che non lilijkite, e poi solo noi�� abbiamo messo a dire con la Fist. sulle labbra applico il 92 di Kiko rossetto ok, il look è finito volendo possiamo applicare un illuminante in questa zona qui vi faccio vedere per esempio questo il Moonlight Collection Sparkling Down the Essence molto molto naturale con un angolino lo andiamo ad applicare qui è molto bello anche di giorno questo trucco mi piace molto anche l'accostamento di questi tre colori li trovo molto belli insieme e niente, spero che piaccia alla ragazza ecco come l'ha richiesto e anche a voi ragazzi